Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore A fine carriera ha consegnato di sé l'immagine di una sportiva, che ha dato lustro ai colori dell'Italia nel mondo Una vera e propria leggenda del nuoto, Federica Pellegrini, che ha vinto, convinto e conquistato il cuore con la sua tenacia E ora è pronta al grande passo, sì, proprio con il suo ormai ex allenatore Nel frattempo, però, conquista anche i suoi fallover con una mise a dir poco sensazionale Che gambe! Federica Pellegrini conquista tutti! E sorprende così Ha dato l'addio alla sua carriera da nuotatrice solo poco tempo fa, con tanta commozione Risale, infatti, solo a novembre scorso, il saluto definitivo alle gare Quando ha disputato l'ultima, a Riccione, vincendone i 200 stile libero Come, del resto, ha sempre fatto per la gioia del suo pubblico, e di quanti l'hanno ammirata incondizionatamente Ha dato tantissimo, Federica, al nuoto e allo sport italiano in genere, imponendosi con il suo stile, la sua classe, la sua forza, la sua energia Un grande sprint in vasca, ma anche una leggiadria da farfalla, all'occorrenza, come quando volteggiò, da sorprendente superospite, a Ballando con le stelle Non ci si finisce mai di stupire di quanto forza e delicatezza possano coesistere E farlo benissimo Ora la divina, così soprannominata, può pensare anche ad altro Il suo matrimonio con Matteo Giunta, che è stato, anche il suo allenatore per sette anni Nel frattempo, si concede degli scatti social all'insegna della sensualità e della grinta E i fan impazziscono.Ele dettaglio scottante che manda invisibilio ai fan Federica Pellegrini incanta i suoi follower, e non è certo una novità, visto che la sua bellezza, la sua classe, e il suo stile sono un fatto risaputo Ma in questo particolare scatto su Instagram, in occasione del fashion show di un noto marchio di moda, si mostra anche molto sexy Che gambe, scrive un suo fan. E di fatti si tratta di gambe da sportiva, allenate e in formissima Ma c'è anche un altro dettaglio messo in evidenza dall'immagine Ovvero la giacca è aperta e sotto, non si vede nulla in realtà Ma lo scopo di un outfit pensato per essere sensuale è proprio quello Non far vedere nulla. Come quando si indossa una gonna con lo spacco La sua bellezza, ben sottolineata da tutti i suoi follower, che la ammirano quasi rapiti, non è ovviamente mai volgare, anzi, la mise è molto elegante, originale, tesa a evidenziarne anche il carisma Sì, perché per indossare un capo del genere, ammiccando con leggerezza, occorre avere una personalità molto forte Una caratteristica che a Federica Pellegrini, certamente non manca Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente